Andi andrà al college, mi sembra impossibile. Che vuoi fare di questi vecchi giocattoli? Calma ragazzi, non facciamoci prendere dal panico. Dove ci sta portando? Avrei dovuto aspettarmelo. Andrà tutto bene, Jesse. Oddio tutta questa incertezza! Nuovi giocattoli! Benvenuti a Sunnyside, amici. Posso approfittare? Ken, dei nuovi arrivati. Allora, chi vuole fare un giro da sogno con Ken? Mostriamo ai nostri amici il posto dove staranno. Se volete venire da questa parte... Ciao, io sono Ken. Io Barbie. Graziosi i tuoi scaldamuscoli. Bello anche il tuo fulano. Finalmente qualcuno giocherà con me! Eh, Rex. A loro piacciono i nuovi giocattoli, non è vero? Che ne pensate dei nuovi? C'è qualcosa di buono? Sei un tenerone, lo sai? Che ti aspetti da un giocattolo per bambine? Non sono un giocattolo per bambine, non lo sono! Dobbiamo evadere. Ok, via libero. Dobbiamo essere a casa prima che Andy parta. Adesso l'importante è restare insieme. Non ce la faranno mai, andiamo! Buona fortuna, gente. Ne avrete bisogno. Sta arrivando! Non avete idea di quello che ho passato stanotte! Grazie a tutti!